C'è un nemico silenzioso nella nostra vita, il colesterolo. Se ignorato si accumula nelle nostre arterie con il rischio di ostruirle. Questo può causare problemi al cuore. Un consiglio, uno stile di vita sano e un Danacol al giorno. Danacol grazie agli steroli vegetali riduce il colesterolo. Pensa al tuo cuore con Danacol.